Il territorio di Vittoria e l'area del Lipparino da tempo presentano il triste scenario di discariche abusive nelle periferie, di rifiuti abbandonati in ogni zona, anche dei centri abitati. Ora la stessa visione si presenta, sia pure con minore gravità, anche nel territorio comunale di Ragusa. Una discarica di fatto è comparsa ai margini della strada per Santa Croce Camerina ed altre in periferie di Campania. In alcuni casi l'intervento è stato immediato, ma il problema non è risolto. Abbiamo il dovere di combattere questo tipo di cattivissima abitudine perché comporta anche una spesa per il comune di Ragusa. Pensate che dal giugno del 2018 fino al dicembre del 2018 abbiamo speso quasi un milione di euro, anche per questo motivo. Sappiamo che noi per la differenziata risparmiamo quasi 2 milioni di euro, quindi questa cattivissima abitudine potrebbe anche intaccare quelle che sono le politiche economiche di un territorio, cioè quello di abbassare la tariffa, la tariffa per poter chiaramente usufruire di questi soldi che risparmiamo. Questi soldi che risparmiamo, che invece di essere destinati proprio per questa politica di riduzione delle tasse, vengono invece impegnate per la bonifica di queste aree. La proposta è quella di fare questo tipo di intervento di carattere di prevenzione, ma anche di repressione. E come si può fare la repressione? Noi dobbiamo istituire delle guardie ambientali, abbiamo sicuramente la necessità di azioni che riguardano anche il volontariato, che potrebbero aiutare l'ente pubblico a vigilare su determinate aree. E questo ci permetterà anche di intervenire in una maniera più incisiva anche nella custodia dell'ambiente, perché non è soltanto una questione economica, ma è anche una questione ambientale. Il cittadino, il turista che ormai attraversa le nostre strade spesso si imbatte in queste discariche abusive. Dobbiamo fare in modo, invece, che anche l'immagine, non soltanto la sostanza, ma anche l'immagine del nostro territorio venga salvaguardata. La normativa regionale cosa prevede? La normativa regionale, praticamente, che è del luglio del 2018, ha demandato ai comuni questo tipo di servizio, cioè quella della bonifica delle discariche. Quindi è un costo che si aggiunge a tanti altri costi, che le province ormai sappiamo qual era il loro ruolo, non hanno più soldi, quindi riescono a malapena a pagare il personale. Quindi, con questa, diciamo, legge, che è la 248 del 5 luglio del 2018, vengono, diciamo, approvate le linee guide per la rimozione dei rifiuti abbandonati nel territorio. E quindi sono dei costi in più che si traferiscono ai comuni, ma i comuni già hanno difficoltà a garantire la pulizia dell'igiene ambientale delle città e in più si stanno sobbarcando anche di queste ulteriori spese. Per questo motivo le discariche abusive vanno combattute veramente con forza. Grazie. Grazie.